Una tragedia che ha scosso profondamente l'Irpinia e in particolare due comunità, quella di Ariano e quella di Melito, comune di origine della ragazza vittima del tragico incidente. Tre vite spezzate e tre giovani che tutti conoscevamo, si legge nel comunicato stampa del sindaco e dell'amministrazione comunale di Ariano. Il cuore della città ieri si è fermato. Ci vediamo al bar di Emilio e il ricordo del sindaco Franza, un invito a un luogo di incontro dove ti imbattevi nella vitalità operosa di Pamela e nella gentilezza e nella simpatia di Emilio. Emanuele, compagno inseparabile, non dimenticheremo mai i tuoi occhi buoni e i tuoi modi gentili. Alle famiglie il cordoglio dell'amministrazione e di tutta la città. È il momento del dolore e del silenzio. In segno di lutto, annullati gli eventi in programma, su decisione di tutti i gruppi consigliari, la riunione del Consiglio Comunale di oggi è stata annullata. Sarà proclamato in questi giorni il lutto cittadino. L'amministrazione comunale tutta sta valutando il modo più rispettoso di testimoniare alle famiglie e la vicinanza dell'intera città. Sarà nostro dovere celebrare i ragazzi, restare al fianco di familiari e amici, stringendoci come solo la nostra comunità sa fare oggi e nel tempo a venire, sottolinea il primo cittadino di Ariano. Apprendo con sgomento quanto è accaduto, dice il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino Lacedonia, Monsignor Sergio Melillo, prego per le vittime e per sostenere le loro famiglie. Avevano dato tanto con il loro entusiasmo al rilancio delle attività del centro storico e ricordo della Conf Commercio di Ariano. Tantissimi messaggi di condoglianza e vicinanza che stanno arrivando alle famiglie dei tre giovani coinvolti nel drammatico incidente stradale. In questo momento così straziante a Emilio e Pamela vogliamo dire grazie e vorremmo fargli sapere quanto gli siamo grati per aver goduto della loro simpatia, dei loro sorrisi, della loro disponibilità. Così il partito socialista di Ariano ricorda i tre ragazzi con un post sui social.